Ciao ragazze, allora oggi guardando sul mio canale youtube, quindi scorrendo tra la mia playlist ho visto che non ci sono video del catalogo di campagna 7 ho detto ma come mai? Io l'avevo registrato, infatti guardando la playlist anche del cellulare non c'era un tubo e quindi sono corsa subito a registrarlo perché l'avevo registrato ed evidentemente lo avrò cancellato sicuramente allora innanzitutto questo è il catalogo, mentre questo è il supplemento di catalogo di campagna 7 e campagna 8 riguardante il mese di maggio e giugno della collezione lux allora cosa abbiamo di nuovo nella collezione lux? abbiamo di nuovo la collana, quella volta era quella della signature questa volta è questa di qua, questa che indossa la modella, molto carina c'è sempre la solita cosa che dovete acquistare tipo 12 euro da questo catalogo e potete prenderla a 9,95, è un valore di 15,95 quindi vedete voi ci sono i rossetti, fondotinta e cipria palettine di ombretti, eyeliner e il mascara per i prezzi se vi interessa sapere il prezzo di qualche prodotto della linea lux fatemelo sapere allora copertina di davanti vediamo la modella fanno vedere anche il far away da 100 ml quindi due volte più grande la modella mi sembrava quella che stava con George Clooney non mi ricordo come si chiama la Canalis forse si dice sembra lei ma non è lei invece dietro vediamo che c'è nel formato XXL quindi da 150 ml la crema morividente per talloni per talloni da 3,95 quindi doppia quantità stesso prezzo quindi se vi interessa in campagna 7 è scontata quindi aspettate allora ecco l'offerta che ci propone Avon per quanto riguarda il far away in doppio formato da 100 ml c'è questa offertina per queste piccole per queste poche pagine tipo ordina ovviamente prodotti diversi allora in questo caso ordina un de parfum far away e potrà avere uno sconto di 5,45 euro su un prodotto complementare a scelta l'ho pagata a soli 1,50 euro o il deodorante anti-sdolala sfera o il deodorante quindi pagherete il profumo a 21,95 aggiungete 1,50 euro e vi prendete uno dei due prodotti stessa cosa per quanto riguarda quello per uomo in questo caso il black suede sport ottimo profumo una bella fragranza allora prendete il profumo a 14,95 potete prendere o il detergente corpo e capelli o il deodorant sfera soli 1,50 euro l'uno stessa cosa per i bubble bath uno lo pagate 7,20 euro l'altro è 1,50 euro da 500 ml oppure da un litro no, allora dovete ordinare uno da un litro pagandolo 5,95 aggiungendo 1,50 euro prendete uno piccolo stessa cosa per i matitoni super shock cioè quelli che ho io ve li faccio vedere penso che li ho portati di mano sì lo so li vedete incollati perché si sono rotti i matitoni sono questi di qua che poi a parer mio non mi piacciono completamente cioè scrive soltanto la parte scura rispetto alla parte chiara cioè la parte chiara non serve a niente quindi prendete il matitone a 8,95 euro aggiungendo 1,50 euro potete prendere la base primer stessa cosa per l'Avon Super Extend il mascara quello classico quindi pagandolo 7,95 a 1,50 euro potete prendere il gel eyeliner anche stessa offerta qui ordina un prodotto per il corpo e potrò avere la crema a mani a 1,50 poi abbiamo il fondotinta cremoso con finitura in polvere quello diciamo 3 in 1 che va bene sia come fondotinta correttore e cipria e a soli 6,95 qui ci sono tutte le tonalità altra offerta per quanto riguarda la new la new completamente le creme quindi i 3 prodotti c'è solo i 42,90 per quanto riguarda la scelta pagina 18,19 è la new platinum 42,90 c'è tipo crema giorno notte con tornocchi a new ultimate 40,50 euro reversaliste 36,90 e a new vitale 34,50 mentre due prodotti della linea new la new clinica lo 25,90 e a grande offerta ritorna diciamo un po' il mascara volumizzante big daring S95 poi vi porto direttamente nelle offerte non è che per perdere tempo allora altra offerta per quanto riguarda la pagina 46,47 ordino un prodotto a scelta pagina 47 avrà uno sconto di 3,55 sullo struccante dell'extra lasting e l'ho pagata da soli 1,95 euro un'altra offerta allora c'è il profumo Sunrise White Summer White Sunrise a 9,95 se aggiungete tipo 1 euro 2 euro 3 euro prendete vari prodotti tipo con 1 euro aggiungendo 1 euro il profumo quindi 10,95 prendete la maschera idratante per il viso all'olio di oliva del Mediterraneo molto buona perché ha il viso comunque secco poi c'è aggiungendo 2 euro quindi 11,95 potete prendere la maschera strappo con 3 euro quindi con 12,95 potete prendere lo spray fissante per il make up ve lo consiglio perché io già me lo sto prendendo allora sogno con una grande offerta il Rare Gold a soli 14,95 un'altra offerta allora detergenti e tonico a 2,50 euro mentre le creme viso della Natural Serbal a 3,50 poi ci sono i completi letto scontati tipo la collezione Seckels completoletto singolo 48 euro oppure quello matrimoniale 79 oppure l'altra collezione Girasoli completoletto matrimoniale 69 euro mentre quello singolo 44 questi due molto carini però questa è la più bella questa di qua poi abbiamo gli sconti di affari di volontà fino al 75% di sconto poi abbiamo 3 Senses quindi gel doccia sia per uomo che per donna e da 250 ml a soli 7,50 euro quindi offerta Avon Plus altra offerta invece per quanto riguarda la Naturals 3 prodotti a 7,95 euro quindi gel doccia spray profumato per il corpo e la crema per il corpo quindi 3 come li voletevo tipo fagole guava ci sono il 7 da 3 fiore di ciliegio orchidea e mertillo è frutto della passione passione e peonia quindi con 7,95 avete 3 prodotti abbiamo un'altra offerta gli shampoo ad avance tecniche 400 ml a 3,95 tranne quello diciamo Supreme Oils sempre da 400 ml lo prezzano a 4,50 poi altra offerta per quanto riguarda i coloranti professionali per capelli 1,8,50 2 scelta 15 euro poi un'altra offerta per quanto riguarda i solari allora ordino un prodotto a scelta da pagina 168 175 e potete avere la crema solare per il viso a soli 3,95 questa è la crema per il viso da 30 ml no fattore 30 e 50 ml di prodotto quindi potete avere tipo questi tipi di solari ne acquistate un zosale un zolare un zosale e poi perché il problema è che non me l'ho più offerta vabbè sto sfogliando inutilmente poi vabbè le creme corpo a soli 3,95 qualsiasi profumazione poi a qualsiasi prodotto quindi i prodotti senza la soli 2,95 quindi abbiamo talco profumato detergente detergente per il viso pettine matita occhi pinzette e quant'altro poi ci sono il miglior prezzo dell'anno ma veramente migliore e speriamo che arrivano sono le matite queste contorno labbra della Glimmer stick a soli 1,95 infatti già hanno ordinato tipo 4 di queste una di questa e una di queste quindi a 1,95 veramente scontate e niente questo è stato il catalogo di campagna 7 con il supplemento spero vi sia piaciuto e se volete qualche informazione di qualche prodotto che magari lo volete sapere scontato potete chiedere nei commenti che vi rispondo subito ciao ragazzi e a presto